Valeria Caracuta, ancora una volta un po' di rammarico per un primo set che potevate chiudere, siete arrivati a un passo e non ci siete riuscite? Sì, anche oggi purtroppo ai vantaggi abbiamo perso il primo set, peccato perché stavamo giocando bene, eravamo riusciti comunque a gestire i loro punti più forti e quindi stavamo andando bene. Poi secondo me facciamo ancora degli errori nei momenti decisivi che dobbiamo cercare di evitare soprattutto con squadre così forti che non ci lasciano la possibilità comunque di farci passare questo errore. Quindi adesso dobbiamo lavorare e pensare a domenica ma poi dobbiamo provare a fare qualcosa in più perché secondo me ce la possiamo fare o perlomeno riuscire a essere perfetti perché alla fine è importante portare a casa il risultato. Ciappini aveva detto che sarebbe stato indispensabile metterle in difficoltà in ricezione però anche loro hanno messo parecchio in difficoltà in ricezione voi? Sì, sì assolutamente hanno battuto molto bene, sono state molto precise anche in quello, comunque sono riuscite a beccare i nostri punti deboli, noi un po' meno perché potevamo farlo sicuramente meglio e dobbiamo lavorare per la gara di ritorno perché dovremo sicuramente sfruttare meglio la nostra battuta perché loro hanno attaccanti molto forti e non sempre è facile contrastarli con il muro e la difesa. Adesso però obiettivamente sarà durissima Mosca? Assolutamente sì, però sai nella pallavolo femminile tutto può succedere, noi ci proviamo perché comunque ci teniamo e vogliamo provare a fare del nostro meglio lì, sarà dura ma ci proveremo e lavoreremo per cercare di portare a casa il risultato. Grazie.